Politica agricola comunitaria, le discussioni partono da Legnaro attorno a un tavolo i maggiori attori dell'economia agricola del Veneto, rappresentata da 84.400 imprese e 6 miliardi di prodotto lordo vendibile. Professionisti rappresentanti di categoria, studiosi universitari, per stilare con la regione un documento destinato ad arrivare prima a Roma, poi a Bruxelles. Parte una fase di rivisitazione della politica agricola comunitaria, saremo molto attenti ai finanziamenti che dovranno arrivare per il nostro Veneto, abbiamo le maggiori percentuali di pagamento europee, quindi i contributi europei non li restituiamo, anzi siamo i più bravi a spenderli e a darli ai nostri imprenditori agricoli, dobbiamo stare attenti che la comunità europea non trasmetta i nostri finanziamenti verso i paesi dell'est, perché con l'entrata dei paesi dell'est nella comunità europea questa spartizione dei finanziamenti, che sono poi soldi nostri, sono tasse dei cittadini, non vadano solo di là ma restino anche in casa nostra. Un'agricoltura che in controtendenza con il periodo di crisi sta registrando un trend in crescita. Abbiamo 800 giovani che si avvicinano con i nostri investimenti del piano di sviluppo rurale a questo mondo e vediamo che sarà un'agricoltura molto diversa da quella che è stata fino a poco tempo fa. Io vedo un'agricoltura dove ci sarà una grande diversificazione. A breve verrà anche presentato un progetto di credito alle imprese. Riusciremo a portare ai nostri agricoltori un ulteriore strumento finanziario che va sia a garantire i prestiti dei nostri agricoltori in banca. Riusciremo a portare ai nostri agricoltori un'agricoltura